Sarete fucilata. Alla fine la distensione fuma Taugen. Se siete contenti è così. Meglio finire in fretta questa tortura insopportabile. Ne mancano due! Oramai sapevo che la mia vita era finita. La parola vera era terrore. È stata certamente una prova molto dolorosa. La caccia è aperta. Il terrore proprio è andare a San Vitorno. Per questa notte ce l'ho fatta. È stato un po' di conoscenza. È stato un po' di conoscenza. È stato un po' di conoscenza. Grazie a tutti.